amici di lavanda dei sibillini bentornati questa sera vi presentiamo la nostra nuova linea natalizia dei sacchetti di lavanda questi sono delle nuove proposte che abbiamo inserito da pochi giorni sul nostro sito e sono specifici per il natale vero nicoletta proprio così questo per un regalo a un amico un parente un fratello questi sono sicuramente i sacchetti più gettonati del periodo parliamo del natale ovviamente questi sono proprio la nostra il nostro fiore all'occhiello direi quasi perfetto io parlerei immediatamente di quelli che sono i christmas i christmas sono una linea di quattro tipologie di sacchetti come possiamo vedere in grigio in rosso in grigio e in rosso con quattro applicazioni in gesso diverse richiamando anche sempre il natale con il fiocco di neve il babbo natale la renna e l'orsetto questi sono in bicolore fiocco rosso che ricorda il natale e la scritta merry christmas esattamente ovviamente tutti sono sigillati con il nostro cartellino lavanda dei sibilini che ne certifica la provenienza e l'originalità continuo io vado con questi questi li abbiamo chiamati i natalini guardate che carini che sono sono dei piccoli pupazzetti all'interno del quale abbiamo inserito la lavanda anche questi sono di quattro tipologie diverse qui abbiamo babbo natale qui abbiamo invece l'orsetto qui l'alce e per ultimo il pupazzo di neve questi sono proprio un'idea carina semplice originale anche proprio per qualche bambino direi che sarebbero contentissimi di ricevere un piccolo sacchettino così anche perché poi l'accetto permette di poterli agganciare anche a un albero di natale quindi sarebbero bellissimi anche come adobbo sarebbero perfetti proprio per questo poi per ultimo per ultimo invece abbiamo i gold i gold sono quattro tipologie di sacchetti con colori differenti in tonalità di dorato e argentato che hanno la caratteristica di essere in cotone bianco e avere il richiamo del cuore applicato con la parte della frangia del intinta e queste sono le nostre tipo le tre tipologie specifiche sul natale non dimentichiamoci che anche le altre tipologie di sacchetti che vi abbiamo mostrato nei video precedenti anche quelli sono degli ottimi regali soprattutto per il periodo del natale ma non solo quelli sono anche adatti come regalo in qualsiasi tipo di ricorrenza o anche che sia una un battesimo una cerimonia un matrimonio non dimentichiamolo mai perché comunque il cartellino in caso di cerimonie lo possiamo personalizzare con il nome degli sposi il nome del bambino che fa la comunione un bel questo sarebbe fantastico per un bellissimo anche nozze d'oro oppure nozze d'argento bellissimo ricordo originalissimo esatto semplice anche per tutti questi sacchetti insieme agli altri proposti in un altro video li potete trovare sul nostro sito internet lavandadeisibillini.it per il momento li salutiamo vi ringraziamo e mi raccomando a natale acquistiamo un sacchetto di lavanda dei sibilini ciao a tutti grazie a tutti